ecco la sila, la nostra grande sila, che boschi meravigliosi avevo provesso di fare una dedica ai fungaioli del Ticino qua qualcuno ha alloggiato, vedete la tenta ormai smossa però vicino, c'era lui, eccolo qua amici questo è per voi guardate quanto bellezza guardate, questo è per i miei amici fungaioli del Ticino a dopo amici allora siamo al 31 di maggio sono in compagnia di Benedetto saluto a tutti Benedetto ciao e siamo su una fungaia questo lo dedichiamo al nostro amico a chi lo dedichiamo? Lorenzo, Lorenzo Lorenzo guarda cosa c'è qua Lorenzo vai Benedetto guarda che pelle boccino Lorenzo che ti dedichiamo madonna com'è bello bello, bello, bello vai Benedetto, vai estirpa guarda Lorenzo questo è per te però ce lo mangiamo noi ciao Lorenzo, a dopo bellissimo sempre in sila ragazzi sono con Benedetto e lui logicamente sta fotografando il suo gmail eccolo qua guardate che bel poccino si sente? benedetto fuma perché perché non è solo lui che fuma che bellezza vai Benedetto estirpa estirpa vuoi dedicarlo a qualcuno Benedetto? lo dedico Antonio Citro ecco Antonio questo è per te però come abbiamo detto a Lorenzo ce lo mangiamo noi è duro che spettacolo di funghi ragazzi guardate qua eccolo qua siamo sempre nella sila salutiamo anche il gruppo di porcini della sila un saluto a tutti e ci vediamo dopo ciao 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 ciao